Scegli agio il tuo domani. Ciao a tutti, sono Lorenzo. Mi sono laureato all'Insubria in Informatica. Ho iniziato il mio percorso iscrivendomi alla laurea triennale all'Insubria nel 2002, e sempre all'Insubria ho proseguito gli studi fino al dottorato, che ho finito nel 2013. Durante il dottorato ho avuto la possibilità di fare due internship a Singapore, mentre alla fine, tramite un contatto con un professore dell'Insubria, sono venuto a conoscenza di una posizione per un postdoc in un'università americana, dove ho lavorato per due anni. Alla fine del postdoc ho fatto domanda in Google, dopo una serie di colloqui ho ottenuto un'offerta di lavoro per una posizione di software ingegnere in Svizzera, che ho prontamente accettato. Dopo tre anni di esperienza lavorando nel team di Security & Privacy, ho deciso che era tempo di cambiare, ed ho fatto domanda per essere trasferito in un team di Site Reability Engineer in Dublino, dove mi trovo attualmente a registrare questo video.